Il direttivo della CGL decide lo sciopero generale ma non fissa la data, un passo avanti o un passo indietro? È un passo a metà che può restare fermo su se stesso perché nel direttivo è chiaro è venuta fuori una diffusa esigenza dei gruppi dirigenti di fare lo sciopero generale visto che per usare uno slogan che è stato usato anche dal centro della manifestazione delle donne se non ora, quando? Con tutto quello che sta avvenendo, se non si fa lo sciopero generale adesso non capisco quando si farà. Secondo però c'è sempre una tendenza a rinvio, a non farlo di una parte del gruppo dirigente perché si pensa sempre che si vuole mantenere un filo sia con Cislewil sia con la Confindustria, un confronto, un dialogo come si dice oggi con la Confindustria e questo paralizza la decisione, quindi la decisione è una decisione a metà, adesso nei prossimi giorni o si chiarisce oppure dovremo arrabbiarci molto. La Camusso ha mandato decidere la data dello sciopero generale ma poi va con il presidente di Confindustria a Marcegaglia a dire che il futuro si decide insieme? Ma sì, adesso a parte il fatto dei dibattiti ma non capisco cosa voglia dire, c'è un'idea di patto sociale ancora nel gruppo dirigente, nella maggioranza del gruppo dirigente della Cigiele che non sta né in cielo né in terra, è un'operazione politica, è una negazione della realtà perché la Confindustria sta con Marchione, ha sempre sostenuto, ho visto che il Comusso ha detto che siamo disposti a fare un patto purché non ci siano le deroghe, la Confindustria ha detto che al centro del patto ci sono le deroghe, mi sembra tutta una roba di palazzo onestamente da cui prima la Cigiele si sottrae e meglio è e se non ci si sottrae diventa un problema per tutti i lavoratori italiani. Il sindacato di base ha proclamato uno sciopero generale, voi della FIOM come lo vedete? Io penso che tutte le iniziative di lotta in questo momento sono positive, quindi adesso non voglio parlare a nome della FIOM ma a nome mio c'è tutta la solidarietà e il sostegno a questa iniziativa di lotta, naturalmente è chiaro che siccome conosco le dimensioni delle scelte di lotta mi sto battendo perché la Cigiele proclami lo sciopero generale, perché lo sciopero generale della Cigiele è l'unico oggi in Italia in grado di fermare il paese, di provare a fermare il paese, noi abbiamo bisogno di uno sciopero generale che sia in grado di fermare l'Italia, di far sentire che contro la politica di Marchionne, contro la politica di Berlusconi, contro la politica della Gelmini, contro le politiche che vengono sostenute al di là di tutte le chiacchiere, di tutti gli scherzi dalla Confindustria e dal palazzo politico economico del paese, contro questo oggi ci sono in campo milioni e milioni di persone.